Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi giocherò c'è la mia vita con arte che non è vero con il personaggio che finiremo e... su di scena contro King, dobbiamo ammattere Gianni che l'amma Oh no, you win! Final round fight! 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 Time to hit one... Final round fight! I will lose! Final round fight! Final round fight! Sì, 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 Sì! Sì, 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 Sì! Sì, 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 Sì! Sì, 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 Sì! Sì, 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 Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, 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 Sì! Sì, Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì, Sì! 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 Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! 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 Sì, Sì! Sì! Sì, Sì! 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 Sì, Sì! Sì, Sì! Sì! Sì, Sì! Sì! Sì, Sì! 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 Sì, Sì! Sì, Sì! 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 Sì!